L'Urganiano che deve rispondere dell'accusa di favoreggiamento della prostituzione MAPPANCULO No, no, Adolfo, no Ecco Bisagno ha precisato che considera l'Assemblea Non è che è caduto dall'altra parte, Dio Ventilata dalla Invest che in un primo momento In un momento aveva È possibile, porta Vaffanculo, dai, vada Dai, non me la mandi Perché dai, mi fa uscire un neurone di quelli Venite avanti, ancora vi do un puno Ma che è che il monaco è questo Ma io me ne vado Leggete pagina 60, fino a 70 Sul terreno del palasporto di Piazzale Olimpia Nel campionato dia 2 di basket Cos'è sto telefono, porto di Mi quel telefono, prima che te lo spacco Io canna madonna Lugagnano, gli esordienti saranno di cena a Vigasio E i giovanissimi invece saranno impegnati A Povegliano Che cazzo è successo? Dio Cosa hai detto? Porca madonna DEL PRESIDENTE SÓNICO DEL PRESIDENTE SÓNICO DEL PRESIDENTE SÓNICO DEL PRESIDENTE SÓNICO DEL PRESIDENTE SÓNICO